Cosa succede? Da dove viene? Cosa è questo? Papà! Trova tre gattini nel labirinto e riceverai un regalo! Andiamo andiamo! Io vado! Ok! Ciao! 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 Ho trovato il primo gattino! Oh no! Oh no! Papa! Papa! Buono! Oh no! Ops! Oh! Un gattino! Papa! Nastia! Papa! Nastia! Papa! Papa! Ciao! 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 Sidinghusiamo un sacco! Ciao! Sciaio! Cucu! Ufff! Oh! Oh! Nastia! Oh! Oh! Nastia! Nastia! Sveglia! Ah! Nastia! Nastia svegliati! Andiamo! Andiamo! Ah! 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 Papà su! Ah! Abbiamo tre gattini! Miau! 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 Oh! Guarda! Un regalo! Interessante! Cos'è questo? Cosa c'è qui dentro? Cosa? Oh! Wow! 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 Oh! Jaa ... Ciao ciao! Ciao ooo! Oh!